Una stagione di consigli, una campagna di educazione alla salute della Bayer che vuole rimarcare ancora una volta le problematiche riguardanti le infezioni respiratorie, l'influenza che va rilanciata, va a rilanciare l'importanza di questa patologia, perché se è vero che lo scorso anno, grazie a una stringenza delle attività non farmacologiche, lockdown, uso della mascherina, nuovo galateo, l'influenza non c'è stata, quest'anno riteniamo e dobbiamo ritenere che l'influenza riprenderà il suo corso e quindi dobbiamo rilanciare quegli elementi di prevenzione riguardanti la vaccinazione, il comportamento che il Covid ci ha rilanciato ma a volte con tanti aspetti contradditori, una campagna social con dei video, con delle modalità rivolte ai giovani, rivolte alla cittadinanza per poter fare delle puntualizzazioni che vogliono rimarcare l'importanza di una patologia a basso rischio specifico ma con effetti rilevanti e che va gestita nel modo più corretto, l'automedicazione, l'automedicazione responsabile, la vaccinazione antinfluenzale e anche l'importanza della vaccinazione Covid.